un cordiale saluto buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori di fano tv sul canale 17 anche oggi c'è la rassegna stampa occhio ai giornali sono le 7 30 siamo in diretta e un cordiale saluto naturalmente a tutti voi che ci state seguendo e ci seguite ogni giorno con tanta anche tanta amicizia perché poi in questi 11 anni tanta amicizia tra la nostra redazione e voi telespettatori allora cominciamo dal santo del giorno poi andremo a vedere il tempo il santo di oggi è san germano di capua il sole è sorto dai 6 e 40 e tramonterà le 17 04 o il tempo questa mattina perlomeno sopra fano c'è un addirittura un po di pioggia forse anche non tanto prevista comunque lui di 30 la protezione civile delle marche prevede un cielo irregolarmente nuvoloso a tratti nuvoloso in particolare nella mattinata e anche in serata con nuvole di tipo cumuliforme in ingresso dal mare avremo delle precipitazioni brevi isolati rovesci nelle zone interne più probabili nella mattinata e anche nella serata odierna le temperature sono in diminuzione nei valori massimi ancora vento poi vedremo i danni che ha fatto nella giornata di ieri quando hanno tirato veramente forte moderato lungo la costa con raffiche fino a vento fresco intensità però in diminuzione nella serata domani ultimo giorno di questo mese di ottobre martedì 31 avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori minimi i venti sono sud orientali che tempo farà per i prossimi giorni avremo tempo stabile per tutta la settimana allora Corriere Adriatico il Corriere Adriatico l'edizione di Pesero apre con il Lido e il Principe sono due i nomi di due alberghi che sono un po nel degrado e che stanno perdendo pezzi una lastra è piombata sulla ciclabile una tragedia dunque sfiorata in mattinata sul lungomare piante di velte danni per il vento ma a centro pagina come giusto che sia c'è la fotografia per la festa che è stata tributata a Morbidelli Morbidelli che adesso è campione mondiale Valentino Arrivo questo è il titolo il terzo posto a Sepang vale la corona iridata è la prima volta di un italiano in moto 2 festa a Babuce il quartiere di Pesero dove risiede appunto Morbidelli la mamma che in lacrime ha accolto questa bella conquista del figlio l'applauso anche di Rossi e questa è la prima pagina del Corriere Adriatico le pagine interne invece è morto il cacciatore precipitato nel dirupo Fabrizio Rossi era in coma da due settimane sono state donate le sue corne le spianto è stato l'ultimo atto di generosità dei familiari di Fabrizio Rossi morto a 62 anni all'ospedale di Torrette di Ancona dove era ricoverato da due settimane la domenica mattina era precipitato non lontano dalla propria abitazione per una cinquantina di metri in un dirupo mentre era alle prese con una battuta di caccia e andiamo sull'altra pagina quella di Fano invece in apertura turisti e nautica siamo accerchiati Baldarelli della CNA lancia l'allarme alla luce dell'ultima azione del nel 2018 dell'asse viario Civiteva e Chiancona Fano e Mondolfo sono tagliate fuori come mete per le vacanze e pagheremo l'accordo tra porti con Pesaro la Fano Grosseto sarà fruibile solo dal 2021 avremo nel frattempo perdite rilevanti dice sempre Baldarelli della CNA andiamo adesso invece sulla pagina di Pesaro e provincia perché questa pagina è dedicata tutta ad Halloween però ci sono iniziative che vanno in senso opposto Halloween sapete è una festa inventata lo stiamo approfondendo in questi giorni sul nostro sito internet occhianotizia.it una festa inventata dai cattolici poi nel tempo se ne sono appropriati gli altri ovvero quelli che volevano crearci il business per esempio ma c'è tutta una storia dietro che se volete potete leggere sul nostro sito molto bella che riguarda appunto tutta la storia di Halloween da quando è stata fondata da quando è stata inventata ad oggi ebbene dicevo a Montelabate per esempio come ci riferisce il Corriere questa mattina santi ritagliati appesi sui portoni così il paese dice no ad Halloween questa iniziativa osteria nuova domani c'è anche l'adorazione eucaristica festa della luce a Borgo Santa Maria dunque niente dolcetto e scherzetto ma santino il santino che è ritagliato e appiccicato sul portone di casa quindi per dire no un po' come quando si un po' come con i testimoni di Geo no ci sono quegli adesivi noi siamo cattolici non suonate noi siamo cattolici una volta si appendevano si appiccicavano ai campanelli adesso invece c'è questa iniziativa che un po' gli assomiglia dei santini che stanno un po' indicare non suonate perché qui non ci interessa la storiella del dolcetto scherzetto invece sempre su questa pagina del Corriere Adriatico c'è anche la notizia che nel santuario di San Giuseppe in Spicello nel comune di Terre Roveresche c'è questa iniziativa sempre a favore delle nostre tradizioni neanche tanto contro Halloween veglia dedicata al santuario di Spicello poi c'è la testimonianza di un ex satanista Don Cesare spiega l'evento e dice è una proposta alternativa ci vuole sale nella zucca dunque nel volantino che è stato distribuito si legge che dal santuario di San Giuseppe in Spicello nel comune di Terre Roveresche la chiesa è contraria al diffondersi di Halloween che tra l'altro ripeto proprio perché è stata inventata dai cattolici Halloween significa proprio veglia di tutti i santi quindi non sarebbe nemmeno da cambiare il nome come adesso stanno facendo con Halloween che è anche un po' bruttino cioè Halloween è Halloween è una festa che significa veglia di tutti i santi e andrebbe semplicemente dovremmo semplicemente riappropriarcene comunque andiamo a leggere di nuovo sul giornale invitiamo tutti a riscoprire la bellezza delle nostre tradizioni cristiane festeggiando insieme tutti i santi spiega Don Cesare Ferri rettore del santuario rimanendo in tema di chiesa fedeli e quant'altro la notizia che c'è sulla pagina di Fano del Corriere di Attico stamattina è di un contrattempo che c'è stato tra due sacerdoti un malinteso i fedeli aspettano in chiesa ma il prete non si presenta è saltata la messa a torrette per un equivoco fra parroci era già successo ed è accaduto in passato fatto è che la messa delle 10 e 30 era stata affidato ad un altro sacerdote evidentemente non si sono capiti e qui le 70 circa persone che erano lì in chiesa sono dovute ritornare a casa oppure qualcuno come spero abbia fatto è andato in qualche altra parrocchia a prendere la messa da qualche altra parte l'astra si stacca dal Lido siamo a Pesaro sempre sul Corriere Adriatico e piomba sulla ciclabile una tragedia sfiorata il forte vento ha uno strato di intonaco e di cemento dalla sommità dell'hotel in Viale Trieste calcinacci volano anche dall'ex principe quello imbragato entrambe le strutture sono nel mirino dell'ordinanza antidegrado del comune di Pesaro o la pagina del Corriere di Urbino è tutta per il tartufo per celebrare il tartufo ci vuole anche un museo Ceriscioli il presidente della regione dice anche che Acqualagna è l'ammiraglia che traina l'intero territorio regionale poi sotto la notizia che come ad alba sfila la protesta però dei commercianti è una battaglia quella dei commercianti di tartufo contro la normativa fiscale e la nuova legge dalla Valle del Cesano invece casa di riposo pressing non stop vogliamo vedere la relazione lettera del comitato per la salute pubblica il segretario comunale attendiamo da giugno e poi sotto invece sempre per quanto riguarda Halloween che si festeggia domani sulla pagina della Valle del Cesano rubata la Madonna o meglio rubata una statuina della Madonna e poi vandali in piscina un doppio colpo nella notte a terre roveresche il sindaco però ha detto che questi due episodi verranno comunque denunciati una signora ha detto che gli è stata rubata nella notte la statua della Madonnina posta all'incrocio tra via Pozzaccia bruciata e via Treponti un gesto veramente infame il furto della Madonnina dell'edicola sacra è avvenuto nel municipio di Orciano la pagina di Senigallia invece parchi cittadini il mirino dei vandele anche qui giochi imbrattati sparita una cassetta nell'area del molinello hanno staccato e lanciato le piastrelle alla Cisanella la scivola adesso è inutilizzabile il sindaco stiamo mettendo in sicurezza tutte le attrezzature per i bambini e poi al liceo Perticare anche qui blitz notturno e cancelli aperti alcuni passanti notano le inferiate che erano state spalancate e hanno dato dunque l'allarme Tavuglia Tavuglia in festa per Morbidelli il mondiale sogno che diventa realtà il campione della moto 2 abita nella fazione di Babucce e mamma Cristina si commuove il Carlino pagina di Pesero Babucce mondiale questo è il titolo con la fotografia doppio dopo il trionfo di Morbidelli in moto 2 la festa dei tifosi al circolo preferito da Franco ti aspettiamo ora siamo in orbita anche noi e poi la pioggia di Calcinacci in zona mare autocolpita spiorata la tragedia e le luciole che si sono affacciate per la prima volta sulla Statale 16 a Fosso 6 ore appena iniziato il lavoro però le hanno portate in questura e dopo 15 giorni di agonia morto il cacciatore finito nel dirupo poi Don Germano trasferito il picchetto dei fedeli che come vedete in questa immagine hanno poi incontrato anche l'arcivescovo di Pesero Piero Coccia chiedendogli di ripensarci il Garbino dunque semina macerie intonaci e rami sulle auto volano pezzi dall'hotel Lido blackout a Trasanni Trasanni di Urbino e poi arriva il nuovo parroco tra le barricate fedeli dal vescovo Monsignore Ciripensi la gente ha volutamente disertato la funzione allestendo un picchetto due prostitute a Fosso 6 ore retata immediata della polizia erano romene arrivate per visitare un congiunto in carcere storicamente la prostituzione qui non ha mai avuto la possibilità di estendersi all'esterno e poi lo shock per la morte di Pietro il ventisettenne volato dalla Falesia aveva abbandonato gli studi universitari il funerale è da fissare Pietro di Otallevi il ventisettenne di Misano trovato cadavere sul San Bartolo. Torniamo sul Corriere Adriatico e per parlare di sport Samba spuntata Fano Indenne ha pareggiato il Fano 0 a 0 a San Benedetto e Rosso Blu gettano al vento la chiotta occasione di conquistare il primo posto in classifica sfida con emozioni ridotte al Lumicino è il primo punto stagionale in trasferta dei Granata un po pochino un po pochino però insomma tre il Fossombrone invece sale al secondo posto Urbagna 0 Fossombrone 1 questo è il risultato e tutta la cronaca della partita sul Corriere di oggi poi la Visse che ritrova lo slancio giusto riscatto firmato Olceseradi torna la Vittoria al Benelli e risale al secondo posto in classifica vi spesero due Monticelli 1 e infine l'ultima pagina del Corriere Adriatico che è ricchissima di sport il giornale delle Marche il lunedì ha tantissimo sport davvero completo quindi gli amanti dello sport sicuramente trovano nel Corriere Adriatico un giornale importante e questo ci fa piacere anche perché il Corriere se non sbaglio e comunque chiudiamo VL un'altra resa grandinata di fischi pesero non sfatti il tabù dell'Adriatico Arena due punti di platino per Cremona no dicevo tra l'altro questa informazione che vi do vedete il Corriere Adriatico che diventa sempre più grande da venerdì 3 novembre racconterà anche la Romagna cronaca e servizi dedicati a Cattolica e Valconca ok noi ci vediamo stasera invece con il telegiornale occhio alla notizia alle 20 e 30 se avete segnalazioni come sempre tante e numerose chiamateci iscriveteci inviateci foto video o testi al numero che avete appena visto vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti